Un amico da tanti anni mi disse vorrei fare una follia ma solo se tu mi dici che questa cosa ti piace e la possiamo condividere che era quello di far vivere l'intera città di Sanremo e io ho detto è un'idea bellissima, bellissima perché anche questa è nuova, cercavamo delle cose nuove pur sposandosi con la tradizione che appartiene a Sanremo la storia di Sanremo è una delle pagine più belle del nostro paese e dobbiamo andarne fieri e quindi abbiamo trovato un sindaco con grande entusiasmo, con grande energia, amato dai suoi cittadini che ci ha permesso di realizzare quello che noi avevamo in mente e quindi lo abbiamo fatto... Lucio? Ciao, non riprogramma No! Pronto? Pronto? La pateria di tu? No, Roberto Benigni! No, la pateria di tu? Ma che sorpresa! Ieri sera è stato bellissimo averti vicino! Sei tu che ispiri poesia e capisce tutta colpa tua! Sei il più grande conduttore che abbiamo mai visto, ma che cosa bene! No, grazie Roberto è stato... Sai che non ho addorbito, non ho addorbito neanche un secondo ripensato a queste emozioni ieri sera! Aver fatto il cantico a Sanremo, il cantico dei cantici, ma non ci rendiamo conto! È la cosa proprio più straordinaria scritta nella storia dell'umanità! Sanremo può rendere anche il cantico dei cantici! E solo tu, e solo tu potevi regalarci questa grande emozione, Roberto, solo tu! Un'emozione enorme, guarda, davvero! E nessuno può dire che abbiamo fatto una cosa con te! No, devo dire che è stato un momento bellissimo e io sono onorato della tua presenza al Festival di Sanremo e devo dire, l'ho raccontato nove anni che Roberto non era a Sanremo, quando ci siamo incontrati in un bellissimo e amichevole pranzo qualche tempo fa, lui mi ha detto io sarò al tuo Sanremo e già quello per me era una vittoria! Sì, e poi quell'ingresso con la banda, malattamente con un capotitato, ma che cosa pesisca! Volevo salutare tutti i giornalisti, tutti che non hanno potuto vedere la presenza, perché io non ho fatto stare in piedi per l'opzione, ma volevo salutare tutti e ringraziare con tutto il cuore! E ringraziare te Amadello, tanto, tanto! Grazie Roberto, ti vogliamo bene, ti voglio bene, grazie! Grazie, grazie! Tutto il mio cuore per voi, grazie! Grazie, grazie Roberto, grazie Roberto Finiti, grazie! Ciao, ciao Roberto, un abbraccio, ciao, ciao! E basta, finito qui, grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti! Viva, viva, viva la Liguria! Perché è iniziata bene con Genova, quando siamo stati a Genova, è una serata bellissima, è proseguita con Sanremo, una regione ospitale, ma lo dico non oggi, perché non c'è niente adesso con i risultati del festival, il sindaco Alberto lo sa, visto che sono qui insomma da una ventina di giorni, ormai quasi un mese, devo dire che è una delle cose che mi mancherà di più in questa atmosfera, la gente di Sanremo, l'affetto, il calore e le nostre pedalate in bicicletta lungomare, quindi veramente viva la Liguria, viva Sanremo! Grazie!